Don Neraldo, possiamo dire un prete di frontiera? Lei sta a Scampia, nella nostra Scampia, che in questi ultimi anni purtroppo sta alla ribalta delle media nazionali per quello che è successo, e lei è il classico prete vicino agli ultimi. L'esperienza di un prete, di un religioso, che è la vera, forse anche la vera missione di un sacerdote? Sì, io sono nutrito, ecco, questa è l'esperienza, nutrito dagli ultimi. Ha detto bene ultimi, perché spesso le persone che noi incontriamo quotidianamente a Scampia sono proprio ultimi. Io in particolare vivo, ma non da solo, grazie a Dio, con una bellissima comunità di persone che è anche qua, insieme a noi, a Benafro, a fare un incontro. Incontrando persone che sono ultimi agli occhi del mondo e quindi dimenticati dai diritti, dimenticati dalla previdenza sociale, a volte dimenticati anche da se stessi, perché diciamo alcuni non partecipano pienamente come cittadini attivi. E' dimenticata anche dalle nostre attenzioni, l'attenzione di noi, gente normale, tra virgolette. Ecco, sì, la normalità poi, diciamo, lo stabilirà altri che cos'è. Però, una delle cose che riscontro sicuramente da quando sono qui, io vengo da un'esperienza precedente educativa nelle scuole dei gesuiti, che era tutto l'opposto quasi come ambiente. A volte quelli che sono i primi, non si contano presidenti della Repubblica, sindaci e altri usciti dalle nostre scuole. Eppure la vita, la vita che c'è in questo posto è il più grande nutrimento per l'anima anche di un sacerdote. Io posso testimoniare questo, che c'è un'energia, una vitalità. Io lavoro molto con i bambini, con i giovani, che non si trova altrove. Forse essere ultimi significa anche però essere svegli, risvegliati. Svegli anche nel senso buono, svegli con il cuore. A volte l'ultimo è quello che si prende cura del suo fratello altrettanto ultimo e quindi si toglie proprio tutto. Ecco, forse questo. La giornata è piena, quindi non le voglio rubare tempo, ma una domanda la tengo qua e la voglio fare. Noi di solito siamo abituati a frequentare persone di un certo livello per poter apprendere. Invece una domanda che vorrei fare a lei. Che cosa ha avuto di insegnamento da questi ultimi? Io sono un terziario francescano, quindi voglio dire la mia formazione si capisce qual è. Ma la mia curiosità, l'insegnamento che le stanno dando i cosiddetti ultimi? L'autenticità nel contatto con il proprio cuore. E speriamo che questa autenticità prenda anche il nostro cuore di tutti e diventare tutti ultimi per poi poter essere primi un giorno. Grazie. Grazie a lei. Grazie a tutti.